Benvenuti a questo nuovo video, sono Orko Verde, in questo video vi farò vedere il nuovissimo glitch per avere boost o più braccia invisibili. A differenza dello scorso metodo che vi ho portato qualche settimana fa, quasi simile, questo glitch è totalmente solo, si fa da soli, senza l'aiuto di un vostro amico, però come requisito dovete per forza avere uno yacht, precisamente lo yacht aquarium, ovvero quello con la vasca da ridramassaggio. Se non avete questo tipo di yacht potete fare il glitch con uno yacht di un vostro amico facendo sempre gli stessi passaggi che adesso vi mostrerò. Dovete semplicemente recarvi in un qualsiasi negozio di abbinamento o nei guarderobali a vostro appartamento, ufficio o yacht. Dovete indossare una tuta alla pilota, non importa se indosserete quella nera o quella grigia, l'importante è che sia una tuta alla pilota. Una volta che avrete indossato la tuta alla pilota dovete recarvi davanti alla vasca dell'idramassaggio e dello yacht. A questo punto il proprietario dello yacht dovrà andare su servizi yacht e la monitorazione e dove si è scritto vestiti idramassaggio dovrà mettere costume, altrimenti il glitch non funzionerà. A questo punto dovete diventare CEO o comunque sia boss, però per diventarlo dovete avere un milione di dollari in banca oppure dovete aver comprato un qualsiasi ufficio. Comprando l'ufficio potete diventare CEO o comunque sia boss gratis anche se non avete un milione in banca e vi aprirà un'organizzazione con il nome che avete scelto di quell'ufficio. Quando sarete diventati CEO dovete semplicemente aprire la monitorazione, inventario, accessori, dovete andare su guanti, a questo punto dovete cambiare i guanti ripetitamente con X senza fermarvi mentre state entrando nella vasca dell'idramassaggio. Quando sarete entrati nella vasca dell'idramassaggio cambiando qualche guanto con X, a questo punto sempre stando nel menu inventario dovete premere X velocemente ripetutamente senza fermarvi per un po' di secondi se l'opzione mostra casco moto e anche mostra casco velivolo. In entrambe le opzioni dovete lasciare sì è molto molto importante. Una volta che appunto avete fatto questo procedimento con entrambe le opzioni ripeto, a questo punto dovete semplicemente andare nel menu operazione, dovete andare nell'applicazione boss sicuro serve del CEO, dovete andare su gestione stile, stile CEO, a questo punto dovete premere la freccia sinistra per mettere il completo CEO sindacalista. A questo punto dovete uscire dalla vasca dell'idramassaggio e quando avrete diciamo superato le scale, quindi sarete usciti definitivamente dalla vasca dell'idramassaggio, dovete premere una volta la freccia destra per mettere come stile CEO nessuno, quindi no. A questo punto se glitchi vi sta uscendo correttamente sarete fuori dalla vasca dell'idramassaggio in costume, a questo punto dovete semplicemente aprire la menu operazione, inventario, accessori, dovete andare di nuovo su guanti, a questo punto dovete premere la freccia sinistra una volta per cambiare un solo guanto. Una volta che avete cambiato il guanto con la freccia sinistra, se il glitch ha funzionato correttamente, vi è uscito correttamente, avrete sia il busto sia le braccia invisibili. Quando avete fatto il glitch potete salvare il completo tra i completi salvati. E' molto importante ragazzi che non cambiarete i guanti, altrimenti sia il busto sia le braccia torneranno ad essere visibili come prima. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questi video sui vari social network e da AllCover. Tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!